Gran Fabio Mantennimela questa faccia, mantennimela, mantennimela Oh, sembra quello di Shane Eh, eh, cosa si chiama? Eh, di Shane No, no No, dai, Nicolas Cage Non era Nicolas Cage No, no, no Riccardo la gabbia Jack, Jack o no Oh, ma come l'è Shining? Bello, bello, bello Eh, praticamente che c'è un hotel abbandonato e c'erano abitare una famiglia per tenerlo pulito durante l'inverno Sicuramente che in questo hotel si sono presenti dei fantasmi Ma il cazzo c'è? Si, il demoniato No, quello è Shining Shining è quello di Mono Cioè, come si chiama? La storia è famosa E dopo diventa pazzo Dopo che va nell'albergo praticamente il marito di questa qua che aveva dei figli viene accontato che lui era un alcolista però aveva cercato di smettere appunto si era ritirato in questo albergo con tutta la famiglia per stare lontano dall'alto da queste cazzate Il fatto sta che entra nella sala dove una volta c'era il bar e lui comincia a vedere proprio i fantasmi che gli offrono l'albergo e quindi comincia a vedere proprio la testa perché si mettono in testa delle... Il fatto sta che in questo finale è che lui doveva ammazzare e lui doveva fare un continuo in camera con una notte al museo Spero... è una ragazza Sì, hai visto? Sì, hai visto? Ok, ciao Il video